Sono Giotto Ghisalberti, sono uno dei titolari dell'azienda Marketing Kilometro Zero. L'azienda è un'agenzia di comunicazione e marketing di Bergamo e specializzata in attività di marketing online. Siamo nati tre anni e mezzo fa, febbraio 2014, l'idea via del mio socio Marco Rossi. Attualmente siamo un team di 12 dipendenti più 4-5 lavoratori. All'interno del nostro lavoro, della nostra agenzia, abbiamo diverse parti e forniamo diversi servizi ai nostri clienti. Provo a descriverli in questo modo. Un reparto è legato alla parte di sviluppo web, quindi ci occupiamo di sviluppare siti interi dei nostri clienti. Un altro reparto è legato all'attività di marketing online, quindi realizziamo campagne di marketing di vario tipo, quindi posizionamento sui motori di ricerca, Google AdWords, campagne su Facebook e Instagram. Un'altra reparto è invece attività di grafica, sia online che offline. Un'altra attività interessante invece è legato al sviluppo di progetti e-commerce. Siamo infatti anche parte di un'azienda di Dubrino che si occupa di realizzare i progetti e-commerce con i nostri clienti. Un'altra reparto interessante sono invece uno legato all'editoria, siamo editori di due giornali, tipo Sostenibili e Bergamo Salute. Infine, un'altra parte della nostra agenda si occupa di realizzare eventi per i nostri clienti, in particolare due eventi gestiti interamente da noi. Il Festival dell'Ambiente è realizzato a Bergamo e il Brescia-Guena, un altro festival legato a sostenibilità ambientale, è realizzato a Brescia. La pubblicità principale per noi è la qualità dei lavori che facciamo, quindi il passaparola, i lavori che abbiamo realizzato, ci hanno sempre garantito di avere un numero di clienti fortemente in crescita. Oltre a questo investiamo in attività di comunicazione principalmente online. Abbiamo un blog sul nostro sito e gestiamo i social media, oltre che fare attività di newsletter. L'investimento per attività di marketing è circa pari a 4-5% della nostra fattura. La principale azione di marketing che ci ha portato un risconto completo è stata l'attività di posizionamento su motore di ricerca. Infatti siamo esperti in questo settore che, principalmente se c'è una SEO, ci ha consentito di ritrovare diversi clienti che cercano servizi e delle mie offerte. Grazie a questa attività ci hanno trovato online e ci hanno quindi contattato. Non si finisce mai di migliorare. Cerchiamo di migliorarci al primo giorno e siamo costantemente in evoluzione. In tre anni siamo cresciuti bene come azienda, sia in termini di fatturato che di persone. La crescita vuole essere su tutti i fronti, quindi sia come competente che come persone. Costantemente io e mio socio seguiamo corsi di formazione di crescita personale. Cerchiamo di portare tutti i nostri dipendenti e collaboratori a migliorare se stessi come persone e a migliorarsi nelle proprie competenze. Grazie a tutti.